Prevenzione è la parola chiave utilizzata dalle forze dell'ordine della provincia di Pesero-Urbino che nel 2015 hanno portato a termine oltre 32.000 servizi di controllo. Ad illustrare i dati relativi all'andamento della criminalità nel territorio è stato il prefetto Luigi Pizzi. Se da una parte i furti in abitazione sono diminuiti sia a Fano che a Pesero, a Urbino sono in crescita del 15%, così come quelli ai danni di esercizi commerciali che registrano un più 100%. Sono in crescita anche i casi in cui i colpi vengono messi a segno mentre i proprietari si trovano in casa e in alcuni episodi i furti si sono trasformati in rapine mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Rapine che sono in leggero aumento in tutte e tre le città e la microcriminalità, detto il prefetto, è legata in particolare ai problemi di tossicodipendenza, di disoccupazione e povertà. Per contrastare questi fenomeni si stanno mettendo in campo una serie di misure di controllo, oltre al servizio di videosorveglianza che verrà implementato con telecamere OCR specifiche per la cattura e registrazione delle targhe. La stessa criminalità di tipo terroristico non si è evidenziata, non si hanno elementi per poter ritenere che il pericolo sia concreto. La presenza anche dei centri islamici nella nostra provincia, dei centri culturali islamici, non dà luogo a preoccupazione in quanto si tratta di una presenza perfettamente integrata. Per quanto riguarda l'immigrazione invece nel 2015 sono stati accolti 773 migranti, mentre attualmente ne sono presenti 534, ospitati in 24 strutture d'accoglienza attivate in provincia, destinate ad aumentare nei prossimi mesi. Sul consumo di sostanze stupefacenti i dati sono pressoché invariati rispetto allo scorso anno, e in particolare si fa riferimento all'asciscia, alla cocaina e all'eroina. Diminuiti inoltre sia danneggiamenti che gli interventi dei vigili del fuoco per gli incendi, grazie anche ai 1600 controlli di prevenzione e alla formazione esterna di 400 persone all'interno dei luoghi di lavoro. Prosegue infine l'operazione strade sicure con pattugliamenti giornalieri. Un quadro certamente non tale da lasciarci tranquilli, nel senso che va sempre tenuta alta la guardia, va sempre svuota un'attività intensissima di controllo e di vigilanza, un quadro però che nel complesso può definirsi non particolarmente preoccupante.